Che succede? L'auto non parte, la batteria scarica. Beh, prendiamo l'altra, no? L'altra autista è andato a fare delle commissioni per il dottor Loy, non c'è. Che guai. E allora, chiama un taxi, che aspetti? Sono in ritardo. Subito. Serve un passaggio? Con quello? No, grazie. Guardi. Questo dovrebbe andarle bene. No, non se ne parla nemmeno. Sto aspettando il taxi. Allora? È sempre occupato. Dove deve andare? Devo andare a Santa Marcella, un orfanotrofio qui vicino. Beh, se è qui vicino, salga. Prego. Va bene. Mi raccomando piano, eh? Perché... Promesso. Grazie. È capace? Va bene così? Sì, salga. Bene. È pronta? Sì. Come mai vai in un orfanotrofio? Lavoro. Mi raccomando piano, eh? Pianissimo. Piano? Stia tranquilla. Sì. Sì. Sì.